Mr Fraschitti, oggi è stato un Sant'Arcangelo diverso rispetto alle ultime apparizioni, un po' sottotono. Un po' tanto sottotono. Forlino avevamo fatto una buonissima partita, però avevamo fatto delle cose in una certa maniera. Oggi non abbiamo fatto nulla di quello che pensavamo, immaginavamo di fare. Eravamo troppo lenti, prevedibili, anche timorosi, impauriti. Abbiamo concesso delle ripartenze a loro per degli errori anche banali. Non siamo mai riusciti a venire fuori in maniera lucida. E' andata bene, abbiamo pareggiato, ci teniamo stretto il risultato contro una buonissima squadra, che tra l'altro poi aveva cambiato in settimana l'allenatore e sapevamo essere motivatissime. Quindi il campionato nel giorno di ritorno sarà questo. Lo vediamo anche da tutti i risultati che sono venuti fuori oggi. Qui non c'è chi ha meno punti e chi ha più punti. Qui ogni domenica sarà una battaglia. Abbiamo visto domenica a Folli, che oggi mi sembra abbia vinto a Renate. L'abbiamo avuto come riprova oggi. Noi ci dobbiamo far ritrovare più pronti rispetto a come abbiamo ripreso questo girone in ritorno, perché ci salveremo, secondo me, sono convinto che ce la faremo. Però prima ci arriviamo a quella quota di 52 punti è meglio. E' provata a cambiare subito le carte in tavola. Già inizio secondo tempo con l'ingresso da parte di D'Antoni, però purtroppo non siete riusciti a sbroccarvi lì davanti. Forse è stato il peggior Sant'Arcangelo di questa stagione dopo la prestazione di Renate. No, no, assolutamente sì. Io dico che forse è la peggior squadra negli ultimi anni che ho allenato che ha fatto una partita in questa maniera. Non ricordo ora a memoria così la partita brutta come quella di oggi, proprio con tanti errori. Ma ripeto, poi la cosa che un pochino più mi lascia perplesso è che mi è sembrato che fossero anche nervosi, frenetici, quando invece voglio dire che chiunque di noi avrebbe pagato per avere questa classifica e per poterci giocare la partita che ci siamo giocati oggi. Quindi insieme di tante cose forse dobbiamo ancora riprendere il filo che avevamo prima della partita con il Bassano. Sarà compito mio farlo ritrovare ai ragazzi, visto anche il passaggio a vuoto giovedì nell'amichevole. Quindi sono tutti piccoli segnali che dobbiamo essere bravi a mettere in luce, a evidenziare e ripartire perché poi non siamo dei fenomeni. Credo che abbiamo fatto delle cose straordinarie, ma sicuramente non possiamo neanche essere quelli che si sono visti oggi. Troviamo un sorriso in questa giornata, un punto in meno verso la quota salvezza. Quella è la cosa più importante, perché poi alla fine conta quello che rimane scritto nella classifica. Abbiamo 38 punti, abbiamo un punto in più rispetto al girone d'andata. Abbiamo fatto un piccolo patto all'interno dello spogliatoio di incrementare le prime cinque partite e il risultato che abbiamo fatto nel girone d'andata. Abbiamo fatto cinque punti, ora ne abbiamo altre tre per incrementarlo. abbiamo fatto quattro punti, anche perché dopo sarà molto 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 difficile migliorarlo, visto che poi l'abbiamo vinta quasi tutte. Quindi non è successo niente, è un passaggio a vuoto, una brutta partita. Abbiamo fatto il risultato, ce lo teniamo stretto contro un'ottima squadra e prepariamo al meglio la partita che ci vedrà domenica nel derby di Rimini.